Per questo secondo Ray la Ginga non potrebbe essere un motore universale, una sorta di forza che per me ha tutto quanto e che quindi non motiva le persone più capaci, come in Star Wars in pratica. Quindi si resta in Star Wars e si dice, potrebbe la Ginga essere come in Star Wars, qualcosa come un forza che può motivare a tutti i nostri planeti? La Ginga sia questa forza? La Ginga non ha a che vedere con la forza, la Ginga ha a che vedere con l'anima della persona, questa forza è la differenza. La tecnologia è la Star Wars, la Ginga è qualcosa che vi mostrerà con l'anima, con il tuo amore, è come una bella vista, non si compara con il momento forte. In Star Wars vedo che la tecnologia ha la forza in questo senso, mentre la Ginga no, la Ginga è il cuore, l'anima delle persone che si esprimono per gli altri. Ok, l'ultima domanda.